L'ambulatorio di cardiologia si occupa di esami diagnostici e visite specialistiche per le malattie cardiovascolari, acquisite o congenite. I campanelli d'allarme più evidenti che il nostro corpo invia quando il cuore è in sofferenza sono i frequenti dolori al petto, oppure uno stato di stanchezza immotivata. Secondo il dottor Cosimo Stefanio del centro di terapia ionoforetica, quali sono i sintomi da valutare prima di sottoporsi alla visita di un cardiologo? Sicuramente il sintomo più importante è il dolore toracico, sia a riposo che sotto sforzo, la difficoltà respiratoria, la cosiddetta dispnea, sia a riposo che sotto sforzo, le alterazioni del ritmo cardiaco, le cosiddette palpitazioni e soprattutto anche gli svenimenti, le cosiddette sincopi. Il sito ionoforetica.it oppure su medicorapido.it, il portale di prenotazioni online che a Bologna ha dato l'esclusiva ionoforetica. Tutte le specialità ambulatoriali con i migliori professionisti a tariffe sociali.